E intanto i nomi delle finaliste Cento Farfalla, Junior, the names of the finalists of women, a hundred meter butterfly, Giulia Petri, miglior tempo, 1-0-3-71, poi Fabretto, Andretta, la francese Golov-Urbancic nella finale, Iris Urbancic, last time in the final, for the final, 1-0-6-9-0. E dunque la Urbancic, sesto tempo utile alla finale, 1-0-6-90. Attenzione annuncio di squalifica, Eli Artusi che hanno dato in corsia 4 nella seconda batteria è stato squalificato per nuotata irregolare. Intanto strapotere Lucatello in questa gara, Martino Lucatello, bronzo ai mondiali junior nella farfalla, 53-88. Era suo il primato della manifestazione e lo va a battere sin dai turni di qualificazione. Bellizzari in seconda posizione, poi Eric Buoro, davvero prestazioni su prestazioni, gli applausi perché 53-88, se ufficializzato, è primato del meeting, ma si tratta anche di nuovo primato regionale veneto, Martino Lucatello. E dunque confermare...